E' volata, quindi è stato riassurdito, che il territorio della città si è vinto, dovrebbe essere Sartori, il numero 49, Tirco, Tirco Sartori, Tirco Sartori, si è vinto, e Tirco Sartori, il gruppo di gruppo di gruppi di unità, ha avuto già finito la prima, che è già stato l'ultimo porto ai gruppi in questo senso, la coppia.